Parliamo adesso di un musicista di Torino, originario di Caronia e proprio alla sua città, grazie all'amore che lo lega con la sua città di origine e con tutta la Sicilia, ha voluto dedicare un video. Siamo andati a incontrare Salvo Buono durante la registrazione di questo video. Salvo Buono, Caronia Marina, cosa la porta? Mi porta la passione per il mio paese, io amo il mio paese, la mia terra, ho promesso a me stesso di scrivere una canzone dedicandogliela e finalmente ci sono riuscito. Stiamo girando un videoclip che ci ha tenuti in ambasce perché col tempo pensavamo che fosse un po' più clemente, ma noi siamo contenti con te. Il legame vero con Caronia, il suo paese di origine? Io sono nato qua, i miei genitori sono nati qua, ho molti parenti, molti zii, molti cugini, ma spero che mi vogliano bene tutti, non solo i miei cugini e i miei parenti. Questo paese meriterebbe, come penso tutti, e della Sicilia un'attenzione maggiore. Voglio pensare che prima o poi, come ho scritto nella canzone, una Sicilia un po' assorbita abbia il suo riscatto, ma penso che bisogna darsi da fare e alzarsi le maniche. Non credo che si può stare lì ad aspettare. È fondamentale, proprio, diciamo quasi essenziale, perché io da un'intervista data alla vostra emittente, a Daniele, che ormai è diventato un amico, ho trovato un altro amico che si è interessato a darmi sostegno per venire qua a girare questo video. La caronia, l'amministrazione soprattutto, è sempre aperta alle iniziative belle, meno belle, quelle belle sicuramente con più attenzione, che riguardano la nostra caronia. Poi io, a livello personale, sono rimasto colpito dall'intervista di Salvo Buono, perché ha dimostrato un amore, un affetto, un interesse verso caronia, stando lontano, che non ho riscontrato in questi venti mesi da amministratore a caronia ogni giorno. Quindi ogni tanto che qualcuno dimostra amore per caronia, io l'ho accaparrato subito, non me lo sono lasciato scappare. E parleremo ancora di Salvo Buono, di questo video musicale dedicato alla sua città di origine, caronia, prossimamente perché non appena il video sarà pronto, si terrà una conferenza stampa di presentazione di tale video proprio nel comune di Caronia.